bella picciotti sono narciso benvenuti in questo non killare il barbaro no comunque dietro eh vabbè eric si si ti vedo ho un'arma per te se vuoi perfetto vediamo di giocare al meglio anche sta partita abbiamo già registrato due video oggi quindi questo qua è il terzo se va bene si se va bene ovviamente ma si andrà bene siamo noi siamo fiduciosi raga si si tieni con un'arma migliore si faccio un gesto tieni te l'ho buttato no l'ho preso l'ho preso già ok qua sopra ci sta una cassa mi sa di no infatti non c'è vabbè comunque questo è tipo il chestnut che abbiamo fatto l'altra volta mi pare si me lo ricordo nel video della texture no il video della texture mi pare che eravamo su questa mappa no in un in un tentativo del video della texture mi sembra eh si mi sembra in un tentativo ok casse qui no che tipo poi siamo scesi si 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 comunque mi pare in un tentativo del video della texture vabbè a sto punto ci conviene scendere veni qua un attimo vabbè io vado dentro qua sopra c'è sono delle casse non presto ah ok dai facci ci sono un nudo praticamente oh beh anche io due quarti full pelle non è che sono messo da conto ci sai scendi e prendo questa cassa qua ok ho preso un eh comunque la texture è quella di dante tenendo due per comunque la trovate nella descrizione in ogni caso è una texture che boh ho utilizzato anche nello scorso video come no niente parla no stavo dicendo che l'ho utilizzato anche nello scorso video e boh è carina certo non è chissà che alla fine è tutto nuvole raga è una texture proprio banalissima pure il mio cugino di un anno io uso la breakfast mashup che è bellissimo mi sta piacendo troppo con queste spalle tipo molto sottili e molto lunghe tipo ed è bellissimo c'è una texture del genere come l'ha fatta dante è proprio mio cugino meglio le tappate e non è pack maker comunque va il pack tutto a posto sto sempre migliorando le cose te l'ho detto già della hotbar della barra dell'esperienza che la voglio modificare perché è troppo banale va troppo banale siccome un pacco abbastanza originale quindi la devo modificare al meglio del meglio ok ho trovato un po' di roba. a poste qui dai non manca molto a questo punto si ho messi più nello stesso modo t'ho passato un corpetto che se me lo dai hai frecce tu ne vuoi la metà non lo so non ho frecce quindi ne ho quindici tieni otto frecce posso ok non abbiamo fatto manco una kill che schifo e vabbè dai vinciamo easy comunque ho il click un po di non proprio riscaldatissimo pure io non so perché sarà che fa caldo può essere oh pure gitter cliccare oggi mi viene bene comunque ragazzi io non gitter clicco ma io non gitter clicco invece non ci fa caldo perché no questo va bene nemmeno io gitter clicco però gitter cliccare comunque mi viene bene no io riesco però col fatto che ho poco spazio no tra per ruotare tipo tutta la visuale non gitter clicco il fatto che c'è l'oglio la sensibilità 20 di quanto c'è tempo 29 penso marcia senza disegnati ori allora siamo in otto vediamo un po' da ora c'è anche l'altra porta da prendere uno che dei team in ciotto asia stavoletto il settore lo tengo sempre tutto bello e madonna un motivo non penso no vede di fallaggare fallaggare c'è inoltre 60 frame il sì proprio con la 1 7 normale non gli ho mai morti non mi dire se è dovuto l'ho 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 come farebbe segnare il ciso non c'è per per tono guarda qualche foto allora bene in questo poco in questo modo che bello che bello di aspetta ti mancano questi che non ho c'è ma anche la molto più potenti non sono messi bene si è un po' benissimo 100.2 vorrei trovare un corpo un corpetto incontri allora sì che poi li fanno insieme con questo annullo per me indietro diretti che vicino sul centro quanto manca refill perchè avendo l'oro un minutino un minuto aspettiamo di poco ci prendiamo la t2 di nuovo quando sto punto io comunque penso che non ci arriveremo in punto quindi si hanno sono dipendere se lo pure si basta andiamo al centro rischiamo e' bello anche per questo cibo mele questo foto più che altro per fare qualche è un game vuoto mi morta la voce aspetta un secondiamo dai vabbè a questo punto si saranno presi i neri eh sì io c'hai le figure andiamo ante per il caso ok ci possiamo fare una spada io mi faccio quello in iron aspetta un'altra prezzo ok ok vabbè a questo punto aspetta prezzo bella quanti noi 22 28 tieni vabbè lascia tele selezza cioè la fine l'ho preso si vediamo se è qua si è messo malissimo ma voi andiamo rapidamente al centro così ci facciamo la spada ovvio attento però aspetta aspetta eh bravo bravissimo ma l'ho scombato non si dice l sei cattivo no 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 ritorna 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 perché c'è l'altro scusa aspetta aspetta lo cazzo no c'è l'altro addio no ti clean fermo fermo ci penso di collo aspetta che me lo so scombato ah ok mi faccio la spada dai che l'abbiamo l'abbiamo distrutto ok potevo killare però la di cat di su dunque era tirato era tipo one hit aspetta no perché sto qua poi gioca e mi da fastidio la cosa comunque l'ho distrutto allora faccio delle frecce vai in via delle frecce eh no se vuoi la spada in via si è messo peggio tra l'altro ah no perché disprezi troppo di quello hai uno di iron si ti ha interno da due aspetta che facci sta l'altro e ce lo killiamo almeno andiamo dal DM come so la faccina triste poveri poveri so così chiama steampi che è tipo un po' più peer pro però siccome non sarà lui ha brutto nome quindi ha brutto nome quindi quindi deve essere killato questo qua tipo mi leva mezzo mezzo cuore affrecciato ok io sto prendendo del cibo perché nemmeno ci avevo vieni vieni se me ne butti un po' per terra magari non sarebbe male dai dai steampi ma è quello che tipo stavo stavo catnissando però tipo oddio oddio ma no ci stai per morire si è quando uno larga succede questo quanti frame fai? 40 non so perché da 60 sono passata a 40 vabbè senza aspetta tolgo le particelle del cibo vabbè si gioca senza particles comunque cioè secondo me si fa un consiglio comunque se mi passi tipo 2 di iron mi faccio gambare sì sì non 9 però veloce vabbè niente eh ormai scusami ma lagga vabbè tanto l'abbiamo killato perché lo vede in aria? eh lo so non lo so nel dubbio può spariamolo esatto nel dubbio tipo è crashato quando manca? 2 secondi un secondo via ma c'è la fly sto qua c'è è buggato ma ma che cazzo l'ho killato io gg vabbè le persone sono strane oggi comunque in questo gioco diciamo così perché abbiamo fatto i tentativi prima le persone sono strane in generale oggi in particolar modo faccio dei pantaloni in iron ah sei full tu ogni volta ci rimettiamo tipo un pezzo in via tieni sei pronto? no è tu io senza mi pare no vabbè facciamo così dai pari chi vince c'è senso il dubbio carichiamo tutti e due ok via vai anche di arco si si concentrazione silenzio tattico ma che è polato si che bastardo che è polato dai non ci credo io non ho la careful ah anche vabbè vabbè gg io la carico tu la carichi eh si si vabbè però tipo dobbiamo togliere le parti fk tipo le parti fk ogni volta lo so vabbè dai vabbè toglile mi raccomando si si tranquillo vabbè comunque in ogni caso spero che vi sia piaciuto questo game noi ci vediamo al prossimo salutiamo salutiamo boh boh basta ci si becca un prossimo video bello 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 bello